L'arte della cartapesta per la cultura materana è la servizio di Andrea Rospi. Presso l'istituto di istruzione superiore Isabella Morra di Matera è stato presentato il progetto L'arte della cartapesta per la cultura materana, nato dall'esigenza di coniugare i due binomi didattica integrata progetto di vita e scuola territorio nell'ambito del processo di integrazione degli alunni diversabili bisognosi di percorsi educativi speciali. Referente didattico del progetto la professoressa Porzia Rossetti organizzativa Maria Teresa Vena, valutazione Franca Di Chio, docente esperta interna Rosa Di Sirio. Alla presentazione, oltre ad intervenire i referenti, i rappresentanti delle istituzioni della Curia Arcivescovile e dell'Associazione Maria Santissima della Bruna, presente anche il maestro cartapestaio Michelangelo Pettasuglia che quest'anno sta realizzando il carro in onore della patrona dell'Arcidiocesi di Matera Ursina ed il suo collaboratore Giancarlo D'Ercole che durante il laboratorio di cartapesta hanno mostrato i cinque alunni coinvolti nel progetto la tecnica decorativa su un angelo che proprio gli stessi alunni avevano realizzato. Il progetto, che prevede tra l'altro che gli alunni diversabili dell'Isabella Morra seguano i lavori di costruzione del carro trionfale, è cominciato con una lezione di psicologia sull'antropologia culturale. È stata quindi presentata la secolare feste in onore di Maria Santissima della Bruna con il suo carro in cartapesta e così i ragazzi hanno potuto toccare con mano quella che è un'espressione della cultura materana. I cinque alunni hanno visitato periodicamente la fabbrica del carro mentre nei laboratori dell'istituto hanno lavorato la cartapesta ed hanno potuto realizzare un angelo che sarà posto sul carro trionfale 2016 da dove sarà tolto prima della sua distruzione per essere messo all'asta.